Cari telespettatori di Fanotv, ben trovati. Oggi per il nostro approfondimento in studio vi portiamo nel mondo della termoidraulica e lo facciamo con l'ospite in studio che do il benvenuto a William Mattioli termoidraulico dal 1968. Ben arrivato William. Grazie. Raccontaci un po' di questo mondo che ti proietta insomma già da giovane nella tua attività. Io ho cominciato praticamente a muovermi nel mestiere del termoidraulico quando avevo 14 anni. Sono andato avanti fino a 21 anni. A 21 anni ho intrapreso il mestiere del rappresentante, sempre di materiale termoidraulico. Però sono stato sempre uno che si è interessato al mondo del lavoro e si è interessato all'evoluzione che c'è stata nella termoidraulica. Ecco, com'è cambiato il mondo del termoidraulica da quando hai iniziato a lavorare? Una volta la termoidraulica partiva con delle cose manuali, cioè non c'erano i mezzi che ci sono adesso, oppure non c'erano le macchinette che ci sono adesso, i tubi erano diversi, è tutto un mondo diverso. Siamo passati dal tubo di ferro, siamo passati alla plastica. Tutta questa evoluzione io l'ho vissuta tutta, perché anche se facevo rappresentante mi interessavo del lavoro che c'era. In più mi sono sempre documentato, ho letto, ho studiato e ho sempre seguito il settore del termoidraulico. Infatti questa tua particolarità, William, è proprio quello di lavorare ma di formazione. E infatti il tuo grande desiderio è quello di creare un corso di formazione tecnico per gli idraulici. Sì, perché il mondo dell'idraulica, non dico che sta sparendo, però non abbiamo il rinnovo, non abbiamo le nuove generazioni. Allora io voglio creare un corso formativo per i giovani, per i ragazzi che hanno intenzione di entrare dentro il mondo del lavoro, anziché andare, io dico perché è il mio lavoro, anziché andare in fabbrica a calzare il pulsante nella macchina, è meglio imparare un mestiere. Una volta che il mestiere viene imparato non si scorda più. Infatti come i nostri anziani, i nostri antenati raccontavano sempre impara l'arte e mettila da parte. Questo è quello che vuoi portare ancora. Questo è quello che voglio portare ai giovani. Anche perché adesso come adesso i giovani preparati non ci sono. I giovani che vanno a fare come il mestiere il termoidraulico al primo impatto si trovano un po' in difficoltà perché non sanno cosa stanno facendo, non sanno cosa fare. Anche il datore di lavoro non è più come una volta che c'è il tempo per insegnarti, per istruirti, per parlarti. Oggi è tutta una corsa. In più abbiamo il discorso che gli operai che abbiamo vengono scambiati tra una dita e l'altra. Quello gli offre 100 euro in più vanno a lavorare con quello, quell'altro gli offre 100 euro in più vanno a lavorare con quell'altro. E noi abbiamo una scarsità di manovalanza qualificata. Quindi mancano proprio gli operatori, mancano proprio gli artigiani? Mancano gli artigiani. Non solo mancano gli artigiani. Sono venute delle ditte strutturate a livello industriale, tipo la CPL e tante altre, che hanno bisogno di idraulici. Non sono preoccupati di formarli gli idraulici per il lavoro che devono fare. Sono andati a prendere gli idraulici dalle ditte termoidrauliche. Di conseguenza abbiamo ancora abbassato la quantità, la disponibilità di termoidraulici. Allora io dico, prima di tutto dobbiamo formarli tecnicamente. Sono tutti ragazzi che avranno 18 anni perché fino ai 17 anni non possono andare a lavorare. Allora io dico, cerchiamo di istruirli. Prima tecnicamente. Io lo voglio fare con l'aiuto dei tecnici delle aziende che verranno a insegnare i loro prodotti ai ragazzi, insegnare dove vanno montati, come sono costruiti, che normativa rispettano e quello che servono. Così un domani che vanno dentro l'azienda termoidraulica, sanno anche capire quello che hanno in mano e a cosa serve. Quindi William, questo corso di formazione che hai pensato di crearlo insieme anche ai tuoi colleghi, magari in pensione, tecnici e artigiani della termoidraulica... Cerco di coinvolgere i termoidraulici in pensione, perché tutta gente che ha lavorato per 40 anni o 43, ha iniziato a lavorare a 14 anni, hanno più o meno, sono grandi come me e hanno vissuto tutta la parte termoidraulica. Perciò riescono a spiegare a questi ragazzi tutta l'evoluzione che c'è stata. E io spero e sono quasi sicuro che questi signori tutta l'esperienza che hanno loro la rivolgeranno ai ragazzi. Ovviamente l'esperienza tua, William, insieme agli altri tuoi colleghi, insomma l'altro personale che poi istruirete questi nuovi artigiani della termoidraulica, dovrà fare i conti anche con le nuove normative, con le nuove tecnologie di oggi. Quindi una tradizione con innovazione. Come hai pensato di gestire questa cosa? Per le normative abbiamo le ditte direttamente, che quando mandano giù il tecnico a spiegare il materiale, spiegheranno anche la normativa. Parlando della normativa sull'impianto, la normativa sulla caldaia, la normativa su tutto il materiale che loro stanno adoperando, perché adesso si è riempiti di normative. Praticamente l'idraulico non fa più l'idraulico, è diventato uno scrivano. Cioè lui quando è la sera, Poletto, che va a casa, deve mettersi su fino alle 10, alle 11, a scrivere i certificati, i documenti, queste cose queste. Ci vorrebbe una segretaria, però le ditte che ci sono qui da lui, specialmente nella provincia di Pesolo, sono aziende termoidrauliche formate da due persone, il titolare dell'operaio, tre persone, di ditte un po' strutturate, un po' coraggio, ce ne sono pochissime. E allora io dico, cerchiamo di aiutarli questa gente, non andiamoli a penalizzare. E poi un'altra cosa, se uno sbaglia un foglio, perché dobbiamo fargli la multa? Se sbaglia un foglio, l'impiegato che esamina questo foglio, telefonerà, direi, che sto fuori, hai sbagliato, hai sbagliato a scrivere il numero di telefono, rimandamelo per favore. No, gli fanno la multa, hai 100 esistenza, 2.000 euro, ogni volta che sbagliano. Cioè non possono fare sempre cassa con noi, no? Dove dobbiamo arrivare? Questo è un po' la cosa mia. Un'altra cosa, che dopo parlerò ai termidraulici direttamente, agli impresari, un'altra cosa che faremo, faremo anche gli stage. Ecco, entriamo in merito, come hai pensato di strutturare questo corso, William. Abbiamo detto che possono aderire e partecipare al corso i ragazzi che hanno finito magari la scuola. Hanno finito i tre anni obbligatori. Benissimo. Perciò io sono del parere che la gente deve istruire, deve essere istruita, perché gli ignoranti non servono più a niente. Deve essere istruita, però deve capire che c'è anche il mondo del lavoro. Sti ragazzi, oggi come oggi, vanno a ballare, c'è volto tante euro. Vanno a cena, c'è volto tante euro. Hanno bisogno di soldi. Tra l'industria e l'artigianato c'è differenza, perché all'industria sei subito produttivo. Essendo produttivo ti danno subito lo stipendio. Dal termo idraulico non sei produttivo subito, sei produttivo dopo di un po', oggi come oggi. E quindi c'è bisogno di esperienza. Dietro questo corso gli portiamo già che sanno di cosa stanno parlando, sanno quello che stanno facendo. Poi la bellezza dell'artigiano è che sei sempre a contatto con la gente. Ogni giorno c'è le persone diverse. Un giorno sei in una casa, cambi la caldaia. Un giorno sei nel cantiere, fai l'impianto. Un giorno vai a fare una riparazione in una casa, però sei sempre a contatto con le persone. E per me il contatto fisico con le persone è molto importante, perché relazionare quello che stai facendo, spiegare alla gente cosa stai facendo, senza vedere quello che succede, che succede la notizia e tante altre notizie, che vanno lì, non fanno niente e pretendono solo i soldi. Cerchiamo di capire che il soldo non è l'unica cosa che serve per vivere, ma per vivere serve anche le soddisfazioni. Allora, un ragazzo che va in fabbrica, quando va a casa la sera, che soddisfazione c'ha? Ho fatto 25 pezzi. L'idraulico che va a casa la sera, anche l'apprendista, può parlare con i genitori, che questo è molto importante il rapporto figli-genitori, può parlare con i genitori e spiegare. Guarda, oggi sai, ho montato i radiatori, oggi abbiamo organizzato una caldaia. Cioè, c'è una soddisfazione in più verso il lavoro che ti hai fatto. E poi il mestiere, è sempre il mestiere, è in evoluzione continua, perciò entri adesso con un tipo di materiale, tra vent'anni quel tipo di materiale lì può arsi che non c'è più. Come ho fatto io che in 50 anni ho visto un sacco di cambiamenti, un sacco di cose, però la soddisfazione è di averle vissute, queste cose, e di sentirse dentro. Io mi sento, non so, spiegarmi, io sono un certo entusiasmo per la terra etraulica. E questo si evince da come parli del tuo lavoro e soprattutto di questa missione che hai preso a cuore di istruire nuovi ragazzi, nuovi artigiani in questo settore. Io ci provo. Dopo, se la gente lo capisce e mi segue, continueremo anche un altro anno, un altro anno di là, continueremo sempre. Quindi William, quando avete pensato di far partire questo corso? Allora, il corso sarà per 12 persone. Ok. Perché lo spazio è quello che è, io c'ho solo quello. Dove? Per i nostri iscrittori che ci stanno seguendo. È a Rociano, in via Avogadro 22, qui a Fano. Come possiamo raccogliere iscrizioni? Raccogliamo le iscrizioni o via WhatsApp o via messaggio nel mio cellulare. Oppure ci si può appoggiare nella mail della società per cui lavoro. Quindi per partecipare a questo corso di formazione c'è una preselezione. C'è una preselezione che verrà fatta da me e da altri idraulici. Non per capire se uno vuole lavorare o meno, per capire se uno è interessato più a imparare un mestiere o a guadagnare subito i soldi. I ragazzi, i soldi gli servono perché per andare in giro, divertirsi correttamente, oggi purtroppo costa. Però l'artigiano non si può permettere di dare grossi stipendi. Dopo cinque o sei mesi che è lì dentro, che ha lavorato, che si fa muovere da solo, tutto, l'aumento degli stipendi ci sarà di sicuro. Però inizialmente lo stipendio è quello che è, è quello dell'apprendista. Quindi il corso sarà strutturato su quanti mesi, William? Il corso è fino, parte a settembre e fino a giugno del prossimo anno. Ok, quindi per una prima parte sicuramente teorica, di formazione. La prima parte sono quattro mesi di teoria pura che la faranno dentro, in aula. Poi dopo verrà fatto una pratica manuale che verrà fatta sempre lì all'interno e poi dopo cominceranno a fare lo stage dalle ditte terminauriche. Ok, quelle che avremo in zona o si sposteranno? Possono andare dove vogliono. L'importante è che vanno a fare lo stage chi ha intenzione di assumere le persone. Se uno deve fare lo stage giusto per dire che fare lo stage non serve a niente. Quindi è uno stage finalizzato poi all'assunzione. All'assunzione. Anche perché quando fanno lo stage saranno già assunti. Saranno assunti con un contratto che vada che quando fanno lo stage sono in regola con il datore di lavoro quello che l'ha preso. Ovviamente si seguiranno anche poi criteri di sicurezza insomma tutto a norma. Ecco questo chi ci sta seguendo insomma ne lo vogliamo ricordare. e il corso è gratuito giusto William? Facciamo la selezione la facciamo a maggio in maniera tale che abbiamo la possibilità di arrivare a settembre e organizzare il tutto. Questo è quello che voglio fare io. Poi se i ragazzi si presentano quest'anno ne facciamo 12 un altro anno troveremo un locale diverso troveremo qualcosa quest'anno è un esperimento per vedere se la gente accetta ritornare all'artigianato perché i pittori i mianchi non ci sono più. Ci deve essere un cambio generazionale Se non c'è un cambio generazionale dove andiamo a finire? Dove lo facciamo? Da dove scaturisce questa voglia di mettersi in gioco anche alla tua età ma soprattutto un occhio verso i giovani? È importante quello che te insieme ad altre persone volete fare? Io ci tengo molto ai giovani perché noi passiamo i giovani entrano e allora se abbiamo un cambiamento di età che al posto di arrivare la persona a 30 anni che non sa dove deve andare a lavorare non ha mai lavorato non ha mai fatto niente riusciamo 17 anni a trovare un mestiere per i nostri figli io penso che sia una bella soddisfazione dare possibilità ai giovani anche di rinventarsi nel lavoro e di trovare una posizione mettersi in gioco tutti abbiamo investito a nostro tempo io facevo l'idraulico da operaio prendevo 9000 lire al mese quando ho preso mi hanno aumentato lo stipendio mi hanno portato a 19 sono riuscito a comprare il motorino perciò erano delle tappe che ti davano soddisfazione arrivarci oggi invece secondo me è la colpa di noi genitori perché un figlio chiede una cosa e il giorno dopo ce l'ha pronta invece non deve essere così te la devi guadagnare quello che fai e allora se te metti entusiasmo nel lavoro in tutto automaticamente trovi anche la soddisfazione in te stesso questo è quello che cerco dei giovani io sono appassionato dei giovani la mia azienda è composta a giovani il più grande sono io e sono il vecchio abbiamo preso un ragazzo adesso per metterlo nel mondo della vendita che ha 22 anni è 7 mesi che veniva con me cerco di insegnargli tutto quello che riguarda il mestiere del rappresentante se tutti facciamo una cosa del genere io penso che i giovani non solo migliorano cambiano addirittura perché si sta bene nel fare le cose bene sì l'idraulico è ancora il contadino di 50 anni fa che provengna c'era 10 etter di terra e ci campava oggi 10 etter di terra non ci campi più ci ne aveva il 100 etter l'idraulico è rimasto nel suo orticello e va avanti col suo orticello però deve capire che il mondo sta cambiando sta cambiando la gente sta cambiando tutti per esempio vanno a fare il lavoro vanno a fare un preventivo non si mettono giù a spiegare al privato c'è la possibilità di pagarlo ratealmente c'è la possibilità di fare il prezzo del consumo c'è la possibilità di montare questa caldaia questo quest'altra non parlano addirittura io ho visto mandare i preventivi via mail un preventivo via mail per l'idraulico non è affatto bene devi spiegare che cavolo vai a fare vai a comprare la macchina ti spiegano come funziona come c'ha le ruote ti fanno salire dentro per sentire come il sedile quindi un appello ritorno al contatto con il pubblico al contatto con le persone l'altro appello che vogliamo fare per i ragazzi che ci stanno seguendo interessati a questo corso di formazione un appello che voglio fare ai ragazzi il mestiere dell'idraulico è il mestiere più vecchio che c'è perché una volta si chiamavano stagnano che andava a stagnare i caldai e i collaborini questi ragazzi non finiranno mai il lavoro non finirà mai ci avranno sempre il lavoro perché nelle case devi aggiustare devi sistemare devi rinnovare c'è sempre il lavoro grazie William e poi per chi ci sta ascoltando daremo le informazioni per la partecipazione al corso ci sarà un altro incontro ci sarà un'altra pubblicizzazione dell'appuntamento dopo maggio quando abbiamo fatto la selezione faremo la presentazione vera e propria del corso con già la gente che parteciperà al corso come tecnici e come istruttori così avremo tutto chiaro io spero che non ci dia adosso nessuno ci lasciassero fare perché abbiamo bisogno di queste cose non abbiamo bisogno di politicanti abbiamo bisogno di gente che reagisce di gente che si muove e realizza senza fare tante storie perciò chiedo agli enti lasciatemi in pace grazie grazie a Fano TV che mi ha ospitato grazie William e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e per la regia ringrazio Roberto Magrelli buon proseguimento con i programmi di Fano TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti